sì come già avevo detto l'altra settimana ci siamo riorganizzati e stasera penso che è arrivato il primo risultato positivo sono stra felice per la squadra per gruppo abbiamo dato uno scossone quindi possiamo dire che stiamo tornando dai ci dobbiamo salvare man mano andiamo attimo questa prima vittoria piano piano andiamo avanti non voglio da obiettivi perché il gruppo si è ricompattato però ci vuole il tempo per capire un po tutte dinamiche situazioni